Il comune di Francavilla non ha rinunciato ai tradizionali fuochi d'artificio per la festa patronale di San Franco. Dopo giorni di proposte e qualche polemica è stato trovato il modo giusto per godere di uno spettacolo che ha incantato migliaia di persone. Il problema principale era il rischio di assembramenti e allora per evitare spostamenti di intere famiglie in un unico punto sono stati accesi ben 25 fuochi pirotecnici lungo i 7 chilometri di litorale di Francavilla dai confini con Ortona a quelli con Pescara come si può vedere dalle immagini catturate dalla Icaro Droni. I residenti e i turisti hanno potuto godere dello spettacolo anche dai balconi delle case. Le forze dell'ordine hanno vigilato sulla massima sicurezza per i distanziamenti. I fuochi dal mare sono stati apprezzati da tutti, sono stati più emozionanti degli scorsi anni, hanno detto in molti, soddisfatto il sindaco Antonio Luciani, con la giusta prudenza si può continuare a vivere una vita normale.